Buonasera, fra pochissimo saremo in onda con il telegiornale nel quale parleremo naturalmente del provvedimento al quale abbiamo dedicato gran parte della nostra edizione di ieri, cioè quel decreto sostegni varato ieri dal Governo con la prima conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi. 32 miliardi che servono per il rilancio dell'economia ma anche per aiutare imprese e famiglie. Un provvedimento che ha raccolto i consensi della maggioranza, cheppure ha litigato però sul tema delle cartelle esattoriali con il duro scontro che c'è stato fra Salvini e Letta in materia proprio di questo condono, come lo ha definito lo stesso Presidente del Consiglio. Male dice Letta che un segretario di partito blocchi i lavori del Consiglio dei Ministri. Enrico Stai Sereno, la risposta forte di Salvini che peraltro oggi ha ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Palermo per le vicende delle navi fermate prima dell'ingresso nei porti. Ma partiremo ancora una volta dalla vicenda naturalmente dei contagi. Sì, perché i numeri sono alti anche oggi. Abbiamo superato di nuovo quota 400 con le vittime. E poi ci sono i contagi con un tasso di positività che è al 6,7%, un po' in diminuzione. Ma è vero anche che continuano a essere sempre molto affollate le terapie intensive, le rianimazioni, con numeri che non possono non preoccupare. Perché siamo oltre le soglie di sicurezza stabilite per la funzionalità del sistema sanitario. In tutto questo poi c'è la vicenda delle vaccinazioni. Allora, questa mattina con AstraZeneca, ieri l'aveva annunciato anche Draghi che si vaccinerà con questo farmaco. Oggi lo hanno fatto il capo della protezione civile Curcio e anche il commissario all'emergenza, il generale Figliuolo. Mentre, a quanto pare, le disdette delle persone che si dovevano vaccinare con AstraZeneca sono basse o bassissime. Così almeno i dati in nostro possesso, quelli che ci sono stati raccontati proprio dai responsabili della campagna di vaccinazione. Ma la verità è che continuano a mancare fiale. Anche oggi c'è stato un invio che non è arrivato. Insomma, grandi problemi anche se l'Europa fa di nuovo sentire la sua voce con Ursula von der Leyen che dice attenzione AstraZeneca perché potremmo bloccare tutte le esportazioni. E poi, lo sapete, c'è sempre la famosa vicenda del possibile ricorso a Sputnik. Poi naturalmente ci sarà una pagina internazionale. Stavolta, oggi, in primo piano, c'è ancora la Turchia per una nuova decisione di Erdogan che allontana, che divarica sempre di più Ankara dall'Europa. Perché? Perché la Turchia ha deciso di abrogare quella convenzione in difesa delle donne contro la violenza nei confronti delle donne che paradossalmente era stata siglata proprio in Turchia, a Istanbul, una decina di anni fa. Questo e molto altro nel nostro telegiornale che comincia con i titoli fra pochissimo, fra 30 secondi. Vi aspetto. Non si ferma ancora la corsa dell'epidemia e i nuovi contagi registrati calano, ma a fronte di un numero minore di tamponi. Sono 401 le vittime registrate. Scende leggermente il tasso di positività, mentre resta forte la preoccupazione per le strutture sanitarie che in alcune regioni hanno ampiamente superato la soglia di allarme dei posti occupati nelle terapie intensive. Nuovo ritardo nelle consegne del vaccino annunciato da AstraZeneca. Ha annullato l'invio di 134 mila dosi. Con il vaccino di Oxford sono stati vaccinati appunto oggi il commissario Filiuolo e il capo della protezione civile, Curcio, che dice di aver attivato il volontariato nazionale per limitare gli squilibri esistenti tra le regioni proprio per la campagna vaccinale. 32 miliardi è la cifra stanziata dal decreto sostegno. Sono soldi destinati alle imprese, ai liberi professionisti, alle famiglie, che potranno contrare tra l'altro sui congedi parentali e sui bonus babysitter. Sono tutti aiuti che dovrebbero arrivare a partire dall'8 di aprile, ma secondo ConfCommercio, una delle categorie che protestano, i parametri per avere gli indennizi sono troppo selettivi e le risorse ancora insufficienti. E' scontro politico sull'errottamazione delle cartelle fiscali fra Letta e Salvini. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio il Consiglio dei Ministri, ha scritto il segretario del Partito Democratico. Basta polemiche, Enrico Stai Sereno è la replica di Salvini. Intanto Renzi incalza il PD sulle riforme, a cominciare dalla giustizia, dall'opposizione. Attacca Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia. Il decreto sostegni certifica che da Conte Draghi non è cambiato nulla. La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul del 2011 per prevenire e combattere la violenza contro le donne, firmato da 34 stati europei. Secondo Ancara, questa carta danneggia l'unità familiare. Ci sono le proteste delle opposizioni in quel paese, mentre l'Unione Europea parla di un enorme passo indietro che compromette la protezione delle donne in quel paese, in Europa e anche oltre. Allora, di nuovo buonasera. Ci sarà largo spazio in questo telegiornale per parlare del decreto sostegni, quello che ha varato esattamente 24 ore fa il Consiglio dei Ministri con la prima conferenza stampa ieri sera di Mario Draghi. Sostegni che servono a tenere in piedi la nostra economia, a sostenere appunto quelle categorie in difficoltà per la crisi economica connessa all'epidemia di Covid-19. L'epidemia che continua a non rallentare in Italia. I numeri restano molto preoccupanti, con quasi 24 mila contagi nella giornata di oggi. È vero che sono 2 mila in meno di ieri, ma i tamponi sono stati in numero inferiore e il numero dei morti è tornato sopra una soglia psicologica, quella delle 401 vittime. 401, i morti di oggi. E tutto questo con la solita pesante pressione sulle nostre strutture sanitarie. Insomma, i motivi di preoccupazione sono tanti. Partiamo da qui. Oscillazioni fisiologiche o piccoli segnali di miglioramento. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come interpretare i dati del bollettino quotidiano della pandemia. Numeri che restano drammatici, ma che lasciano intravedere degli spiragli di un lieve decremento nella curva dei contagi rimasta nell'ultima settimana sostanzialmente stabile e una leggera salita. A calare, infatti, sono i nuovi positivi. 23.832, meno di ieri, ma meno soprattutto di una settimana fa, quando i casi registrati in 24 ore erano stati poco più di 26.000 con un indice di positività del 7%. Oggi lo stesso indicatore si ferma al 6.7%. Non una diminuzione netta, ma la flessione del rapporto tra tamponi e nuovi casi è il numero giornaliero dei contagi. In caso di un'effettiva decrescita della pandemia in Italia, dovuta alle restrizioni delle ultime settimane, sarebbero questi i primi indicatori a calare. Così non deve sorprendere che tutti gli altri numeri restino ancora altissimi, ma a partire da quello dei decessi, l'ultimo purtroppo a scendere. Oggi le vittime sono 401, in totale 104.462 dall'inizio della pandemia. La regione con più casi ancora una volta, la Lombardia, che fa registrare quasi il doppio dei contagi avvenuti in Emilia-Romagna, la seconda più colpita. Ancora alti anche i positivi in Campania, Piemonte, Veneto, Puglia, Lazio e Toscana. Non si attenua nemmeno la pressione sugli ospedali, che ormai da settimane continua a crescere. Lo fa sia nei reparti Covid, dove attualmente ci sono poco più di 27.000 pazienti con un aumento di 200 ricoveri, rispetto alla precedente rilevazione, che nelle terapie intensive, dove i posti letto occupati aumentano di 23 unità, in totale 3.387. Nel Paese, da lunedì, entreranno in vigore le nuove ordinanze, firmate dal Ministro Speranza, che prorogano la zona rossa per la Campania e fanno scendere di un livello di rischio, da rosso ad arancione. Il Molise è un doppio balzo, quello che invece coinvolge la Sardegna, da unica zona bianca del paese. Dopo il weekend diventerà arancione. Pochi minuti fa la notizia che alcuni nuovi contagi scoperti nell'isola, dove già circola la variante inglese, sono da attribuire alla variante brasiliana. Allora, se questa è la situazione sanitaria, l'unica risposta possibile, oltre ai provvedimenti restrittivi ai quali è sottoposta tutta Italia, avete visto quella cartina, fa impressione rivedere tanto rosso e il resto tutto in arancione. L'unica risposta, dicevamo, è quella dei vaccini. Al momento sono oltre 7 milioni e mezzo le somministrazioni già effettuate e 2 milioni, 380 mila gli italiani che sono stati già vaccinati con entrambe le dosi. Ma il problema che resta sempre in primo piano è quello di quante fiale sono disponibili. Bene, le notizie non sono buone perché anche oggi c'è stato un taglio di AstraZeneca. Sì, quel vaccino anglo-svedese discusso fino all'altro giorno, fino al Via Libera di Ema, un vaccino che ha avuto bisogno oggi anche del sostegno che è arrivato da due personaggi importanti, dal generale Figliuolo che guida la struttura che combatte il Covid e da Curcio, il capo della protezione civile. Hanno fatto quel vaccino. Questa mattina in fila nel centro vaccinazioni della città militare della Cecchignola di Roma tra militari e cittadini c'erano anche il generale Figliuolo e il capo della protezione civile, Curcio. Per loro, come per tutti gli altri, il vaccino AstraZeneca che da ieri ha ripreso ad essere somministrato in tutta Italia. Stiamo già recuperando e ci sarà una forte accelerazione, ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, spiegando che l'impatto della sospensione del farmaco anglo-svedese sulla tabella di marcia delle immunizzazioni c'è stato, ma le disdette sono state meno di quanto ci si aspettasse. si va da un 20% di alcune regioni a nessuna disdetta in altre. L'obiettivo è di arrivare a 500.000 vaccini al giorno dalla terza settimana di aprile per raggiungere l'immunità di greggio e per la fine di settembre, ha detto Figliuolo, confermando l'arrivo per fine mese di 7 milioni di vaccini a fronte dei 6 milioni e mezzo circa di febbraio e gennaio. Nella seconda metà di aprile arriverà Johnson & Johnson con una quantità limitata che poi andrà aumentando tra maggio e giugno, ha spiegato. Le 134.000 dosi di AstraZeneca che dovevano arrivare questa settimana sono slittate e si sommeranno a quelle previste per mercoledì prossimo 24 marzo, quando ne dovrebbero arrivare 279.000. Tra oggi e domani è previsto invece l'arrivo all'aeroporto di pratica di mare di 333.600 fiale di Moderna. In queste immagini il primo stoc appena prodato in Italia. L'obiettivo adesso è equilibrare i sistemi regionali con il supporto della protezione civile. Noi abbiamo attivato il volontariato nazionale di protezione civile per supportare le regioni nell'incremento dei piani vaccinali e appunto stiamo anche dal punto di vista tecnico limando quei disequilibri che tra regione e regione si possono creare. Intanto è ancora caos e prenotazioni in Lombardia per disservizi della piattaforma aria alla società della regione che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale. A Cremona nel Lab in Fiera stamattina sono arrivati solo 60 pazienti a fronte di circa 600 attesi. Stessa situazione a Como dove si sono presentati solo in 16 con 700 posti disponibili ed è scattata subito la ricerca tra le liste di aventi diritto per non perdere neanche una dose. Nell'elenco dei centri per le vaccinazioni entreranno anche le 19.000 farmacie in via sperimentale previa formazione specifica come stabilito dal decreto legge sostegno approvato ieri. In attesa dell'approvazione formale del Lema per quanto riguarda lo studio sulle varianti dei vaccini il presidente della regione Lazio Zingaretti ha annunciato che nei prossimi giorni verrà stipulato un primo accordo con l'Istituto Spallanzani per una sperimentazione scientifica del vaccino Sputnik. Già la sperimentazione su Sputnik che avviene anche in Italia il problema è che le dosi di AstraZeneca che è il vaccino sul quale ha puntato di più l'Europa continuano a non arrivare i tagli sono cospicui e stanno mettendo in crisi gli interi piani vaccinali di tanti paesi che su queste fiale contavano bene oggi si è fatta sentire per l'ennesima volta e fortemente la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen Ora servono le dosi gli stati membri fanno pressione minacciando come hanno fatto Italia e Germania di andare per conto proprio ad esempio sul vaccino russo Sputnik così Ursula von der Leyen questa mattina ha provato a fare la voce grossa con i produttori su tutti ancora una volta AstraZeneca se non rispettate le consegne previste prima di iniziare le spedizioni verso altri paesi bloccheremo le esportazioni pianificate ha detto la presidente della Commissione la campagna vaccinale che va a rilento in tutto il continente comincia ad essere un problema anche di tenuta politica a chiarire ancora meglio il concetto ci pensa il vicepresidente Timmermans secondo il quale l'Europa può arrivare a sequestrare le dosi che servono alle aziende che non hanno rispettato i contratti contratti sui quali peraltro regna ancora una certa incertezza su cosa ci sia messo nero su bianco il punto è che l'Unione è travolta dalla terza ondata della pandemia dalla Germania dove gli ospedali sono in difficoltà alla Polonia al Belgio che implementano nuove chiusure severe fino alla Francia da ieri di nuovo in lockdown un provvedimento che colpisce 21 milioni di persone di cui 12 residenti nella regione di Paris-Hilde France per 4 settimane 7 giorni su 7 un atto obbligato ha spiegato il premier Jean Castex per dare sollievo alle terapie intensive di nuovo sotto estrema pressione nonostante questo è sempre più difficile fare digerire ai propri cittadini le misure restrittive ed in Europa si moltiplicano le manifestazioni di protesta a Kassel in Germania si sono verificati degli sconfitti tra la polizia e circa 20.000 persone molte delle quali senza mascherina scese in piazza per protestare contro le restrizioni anti-covid gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino i cannoni d'acqua ed anche i manganelli per disperdere la folla stesso spartito in Gran Bretagna che però con una campagna vaccinale vigorosa ha superato la terza ondata e già pensa alle riaperture nonostante questo oggi in migliaia di nuovo la maggior parte senza mascherina hanno occupato le strade di Londra da Hyde Park fino a Westminster scontrandosi con la polizia una manifestazione del genere con qualche centinaio di persone anche in Italia a Torino ma torniamo al decreto sostegni quello approvato giusto 24 ore fa dal Consiglio dei Ministri si tratta di 32 miliardi che dovranno sostenere le imprese i professionisti le partite IVA e anche le famiglie un provvedimento che era molto atteso che ha spiegato il Presidente del Consiglio ieri è il massimo che il Governo può fare in questo momento con i numeri della finanza pubblica italiana il decreto sostegni vale 32 miliardi di euro che poi è la cifra decisa dal Parlamento come scostamento di bilancio cifra che in tempi normali sarebbe stata una finanziaria da sogno ma in epoca di pandemia è inevitabile che scontenti molti sul versante del sostegno all'occupazione c'è l'attesa proroga della Cassa Integrazione contestuale al blocco dei licenziamenti fino al prossimo 30 giugno l'indennità per lavoratori stagionali sportivi il rinnovo dei contratti a termine senza causale il rifinanziamento del reddito di cittadinanza e tre mesi in più del reddito di emergenza molto attesa era la parte fiscale del decreto col tanto discusso condono per le cartelle 2000-2010 per i redditi non superiori a 30.000 euro una rottamazione ad hoc per le partite IVA una proroga delle notifiche lo slittamento dei versamenti e l'allungamento dei tempi delle rottamazioni già decise tutto lavoro in più per i commercialisti il decreto stanzia 11 miliardi a fondo perduto a partite IVA professionisti e imprese fino a 10 milioni di fatturato la base dell'indennizzo verrà calcolata sulla media della perdita mensile registrata raffrontando il 2020 e il 2019 la percentuale delle somme va a scaglioni e dipende dai ricavi e dai compensi gli aiuti saranno o bonifici in banca o somme da scalare dalle tasse per il turismo invernale che quest'anno ha avuto un duro colpo è previsto un fondo a parte di 700 milioni di euro per stagionali e comparto sci e montagna il decreto sostegni ha ancora forti limiti i parametri per ottenere gli indennizi sono troppo selettivi e le risorse sono insufficienti da settimane sostiene la federazione italiana dei pubblici esercizi si parlava di aiuti perequativi selettivi adeguati tempestivi ma questi aggettivi dice la Fipe non descrivono le misure proposte il comparto dei matrimoni e degli eventi 50 mila operatori se da una parte vede riconosciuta la sua peculiarità dall'altra avrebbe voluto più dei 200 milioni stanziati dal decreto che invece non comprende nel settore turistico il comparto dei bus privati a noleggio che ora chiede contributi per i mezzi inutilizzati e oltre ad alcune categorie il decreto ha suscitato le proteste dell'opposizione di Giorgia Meloni ne parleremo subito perché nella pagina politica c'è anche lo scontro aspro che c'è stato proprio su un aspetto del decreto sostegni fra il segretario del partito democratico Letta e il leader della Lega Matteo Salvini il giorno dopo il travagliato varo del decreto sostegni e il debutto di Draghi in conferenza stampa nella maggioranza si riapre il gioco delle bandiere la rivendicazione a consuntivo delle cose ottenute da ciascun partito delle micro vittorie o delle richieste per le settimane che verranno in primis un nuovo scostamento di bilancio giornata rivelatrice oggi insomma delle dinamiche interne comincia il neosegretario del PD Enrico Letta al mattino con un tweet contro Matteo Salvini bene Draghi bene Ministri male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il Consiglio dei Ministri senza peraltro i risultati scrive deplorando il lungo braccio di ferro di ieri sulla rottamazione delle cartelle esattoriali che il PD e l'EU non volevano tutti gli altri 5 Stelle compresi si è finito con un mini condono ma solo per i redditi inferiori a 30.000 euro annui e solo per il periodo 2000-2010 non il 2015 richiesto dal centro-destra dei 5 Stelle il PD già ieri aveva dato segni di insofferenza nei confronti della Lega e oggi ci tiene a mettere a verbale che il risultato del match Draghi non lo ha risolto a vantaggio politico di Salvini e nello stesso tempo a rassicurare il partito su quale sia ora è sempre l'avversario da battere Letta stai sereno la Lega pensa agli italiani con un decreto da 32 miliardi ma c'è chi pensa allo Jussoli tweet a contrasto il leader leghista che prova a intestarsi l'intero decreto tutto distributivo al grido più fondi per tutti condono a parte non registra almeno non ancora prese di distanza significative certo dall'opposizione a sinistra c'è Fratoianni che se la prende con il condono e Giorgia Maioni che attacca parlando di decreto deludente nelle cifre paragonando Draghi a Conte ma in compenso Salvini proprio sulle cartelle ha ottenuto l'appoggio di Forza Italia e perfino quello dell'ala 5 stelle di governo con Laura Castelli e Patuanelli se Forza Italia punta i piedi e per l'Italia non un capriccio dichiara del resto il coordinatore Antonio Tagliani replicando i malumori di un PD deluso dal soccorso forzista Salvini sono gli strascichi di un varo comunque sofferto che ha visto il premier costretto ad allungare i tempi e ieri in funzione di una mediazione condotta di persona allo slittamento progressivo dei tempi del Consiglio dei Ministri la Lega che ha minacciato di non partecipare al Consiglio dei Ministri tutti i partiti hanno delle bandiere si tratta di chiedersi quali sono quelle di buonsenso e quelle a cui si può rinunciare senza fare danno assieme all'Italia aveva detto ieri Draghi minimizzando la portata dello scontro certo resta tanto da assestare anche all'interno del centro-sinistra dove Letta si accinge ad incontrare tutti i leader dei 5 Stelle a Renzi il quale in Assemblea Nazionale lo festeggia come migliore di Zingaretti non più ostaggio di Conte dice contemporaneamente sfidandolo su prescrizione e riformismo ovvero distanza dai 5 Stelle abbiamo parlato molto di Salvini per il dibattito politico ne dobbiamo parlare anche perché oggi la procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il leader della Liga per i fatti di quando era ministro estate del 2019 il caso della Open Arms chiesto il rinvio a giudizio dalla procura di Palermo per Matteo Salvini indagato per sequestro di persone e rifiuto di atti amministrativi nel processo Open Arms la vicenda risale all'agosto del 2019 governo Conte 1 agli sgoccioli alla ONG spagnola di Open Arms fu vietato di far sbarcare nel porto di Lampedusa i 147 migranti che erano in mare da 21 giorni la tesi dell'accusa al pubblico ministero Francesco Lovoi è che la concessione del POS il porto sicuro è un atto amministrativo che era nelle competenze solo del ministro dell'interno non si tratta di responsabilità politica attribuibile all'intero governo tanto più che secondo il PM le testimonianze del premier Conte nell'analogo processo per il caso Gregoretti a Catania dicono che in consiglio dei ministri non si discusse mai dei singoli casi la scelta era del Viminale Salvini informava poi della sua decisione a cose fatte generalmente con un tweet o altre forme di comunicazione social opposta naturalmente la linea della difesa Salvini sostiene di aver difeso i confini della patria e che i provvedimenti furono adottati di concerto con i ministri della difesa Trenta e dei trasporti Toninelli mentre il presidente del consiglio ne era informato sono un italiano felice di aver fatto il suo lavoro di aver protetto vite dignità e confini di aver svegliato l'Europa nessun sequestro di persona sostiene l'avvocato di Salvini Giulia Buongiorno Open Arms aveva diverse possibilità di andare prima a Malta poi in Spagna e non lo fece ma secondo il comandante della nave la valletta accettava di far sbarcare solo 30 passeggeri e la Spagna era troppo lontana al viaggio pericoloso quando l'unico porto sicuro era quello vicinissimo di Lampedusa dopo la richiesta del PM il processo è stato aggiornato al 17 aprile parlerà la difesa di Salvini Arcelor Mittal ha comunicato alle organizzazioni sindacali la ripartenza di alcuni impianti dello stabilimento siderurgico di Taranto si tratta di un passo indietro rispetto all'annuncio shock arrivato stamattina di un ridimensionamento delle attività e del congelamento dei piani di investimento il colosso franco indiano accusa Invitalia di non aver rispettato l'accordo di investimenti di dicembre con cui la società del tesoro si era impegnata a versare 400 milioni di aumento di capitale entro il 5 febbraio oltre a una serie di misure per sostenere gli investimenti della società a Taranto c'è una situazione di caos senza precedenti dicono i sindacati che chiedono al governo di intervenire e ora andiamo in diretta da Gerusalemme con le immagini che arrivano da fuori dalla casa di Benjamin Netanyahu il premier israeliano questa è la sua residenza ufficiale e le persone protestano alla vigilia martedì delle quarte elezioni anticipate in meno di due anni i manifestanti si radunano qui con regolarità dal giugno dello scorso anno e contestano il primo capo del governo in carica ad essere incriminato per corruzione in tre casi nei quali il premier ha comunque dichiarato la sua innocenza vedete sono tutti vicinissimi quindi ci sono anche problemi sanitari andiamo in Turchia perché Erdogan ha preso una decisione che divarica ancora di più il suo paese dall'Europa ha denunciato il trattato la convenzione che difende le donne dalla violenza ai loro danni 77 donne uccise per mano di un uomo dall'inizio dell'anno quasi una al giorno l'anno scorso erano state molte di più 300 omicidi accertati e oltre 170 morti sospette alcune indotte suicidi non a caso la Turchia è considerata uno dei paesi più pericolosi per le donne ma nonostante questo decide di abbandonare la più importante convenzione internazionale cui il paese islamico avesse mai aderito chiamata proprio convenzione di Istanbul perché è qui che è stata firmata dieci anni fa da 34 stati europei che si impegnarono ad adottare legislazioni per la difesa delle donne contro ogni forma di abusi anche familiari contro la violenza coniugale le mutilazioni genitali femminili il decreto firmato dal capo dello Stato Erdogan cancella in un colpo anni e anni di battaglie da parte di associazioni e movimenti politici di opposizione il più importante i social democratici ha annunciato al termine di una riunione straordinaria che ricorrerà al Consiglio di Stato di Ankara per difendere i diritti delle donne fino alla fine il Consiglio d'Europa parla di un enorme passo indietro che compromette la protezione delle donne in Turchia donne che oggi sono scese in piazza di Istanbul nel quartiere laico di Kadikoy per chiedere ad Erdogan di ritirare un decreto visto con favore non solo dai partiti conservatori turchi ma anche dalla più importante associazione delle donne islamiche di cui fa parte la figlia di Erdogan e che in passato si era detta favorevole alla convenzione per i diritti delle donne vista oggi come una minaccia per la famiglia tradizionale perché incoraggerebbe il suo parere il divorzio e promuoverebbe la cultura LGBT ma più che divorzi sono gli assassini a registrare in Turchia un aumento impressionante così come le denunce di minacce e violenze che spesso costringono le donne turche a lasciare il lavoro o addirittura a cambiare identità mancano poco più di quattro mesi all'apertura dei giochi olimpici in Giappone e oggi è arrivata la notizia che non ci potranno essere turisti in quel paese la causa sempre quella la pandemia sul muro del covid si infrange tutto a cominciare dalle vite di chi è stato sconfitto dalla malattia ma anche i sogni le speranze di chi non riesce a scorgere un futuro che possa autorizzare una pur minima ripresa non solo economica e così oggi abbiamo appreso che le olimpiadi di Tokyo si faranno ma nessuno spettatore potrà raggiungere il Giappone per vivere in prima persona i 32esimi giochi estivi e dunque dopo aver visto posticipare di un anno le olimpiadi cosa ma è venuta dal 1896 ora il CIO non consente al pubblico straniero di assistere alle competizioni sportive di un evento a 5 cerchi scompaiono causa epidemia quelle che sono le fondamenta dell'olimpismo la pace l'unione e l'incontro dei popoli della terra l'annuncio arriva 5 giorni prima della partenza della staffetta della torcia olimpica che inizierà dal J Village di Fukushima e terminerà dopo 121 giorni il 23 luglio quando si terrà la cerimonia di apertura dei giochi a National Stadium di Tokyo i funzionari nipponici hanno detto che il rischio di ammettere i possessori di biglietti stranieri durante una pandemia è troppo grande oltre ad essere fortemente contrastata dai giapponesi in merito alla decisione il neo rieletto presidente del comitato olimpico internazionale Thomas Bach condivide la delusione di tutti i tifosi olimpici del mondo e delle famiglie e gli amici degli atleti che stavano progettando di venire ai giochi il problema è che circa 810.000 biglietti sono stati venduti all'estero e i rimborsi saranno determinati dai rivenditori autorizzati che gestiscono le vendite al di fuori del Giappone hanno però intenzione di trattenere il 20% di commissioni l'onere finanziario della vendita dei biglietti persi di Catras sul Giappone che già spende 15 miliardi e mezzo di dollari per organizzare i giochi quasi 4 milioni e mezzo di tagliandi sono già stati venduti ai giapponesi ma anche per loro non è ancora definito se potranno assistere dal vivo alle partite e gare olimpiche nei palazzetti o negli stadi all'aperto dopo di noi c'è 8 e mezzo gli ospiti di questa sera di Lilli Gruber sono Luca Telese Antonella Boralevi Alessandro De Angelis e Stefania Salmaso noi ci fermiamo solo qualche istante non ci sono aggiornamenti di rilievo vi lascio a Lilli Gruber a 8 e mezzo noi ci vediamo domani sera grazie e buon proseguimento di serata grazie a tutti